Saluti dalla famiglia Ferragnes. Ieri è stato un giorno indimenticabile, poiché finalmente si è riunita la famiglia Ferragni. È stata un'esperienza di gioia intensa che ha illuminato le loro vite. Le foto condivise di recente da Chiara Ferragni hanno immortalato in modo straordinario questo momento speciale. La gioia e la serenità hanno riempito nuovamente le pareti della nostra casa. E desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che ci hanno offerto solidarietà e supporto durante questi giorni impegnativi. Un caloroso ringraziamento va a ognuno di voi che è stato al nostro fianco. La vostra presenza e il vostro affetto sono stati un faro di speranza nel buio, e non vediamo l'ora di condividere insieme futuri momenti di felicità. Grazie di cuore a tutti voi. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.